Non solo problemi, dalla sanità giarrese arrivano anche buone notizie. Le indica in una lettera il presidente del Tribunale per i diritti del malato, Giuseppe Patanè, che afferma di avere ricevuto delle risposte concrete alle proprie segnalazioni. Il riferimento è all'apertura ogni giovedì dell'ambulatorio di allergologia con un nuovo medico in servizio per compensare l'ambulatorio chiuso di ambito ospedaliero. Ripristinato poi l'ambulatorio di otorinolaringoiatria con un nuovo medico in servizio dopo il pensionamento dell'Otorino dell'Exinam. Per Patanè così si dà una risposta alla grande richiesta di cure avanzata da molti pazienti rimasti orfani dopo la chiusura dell'unità operativa dell'ospedale di Giarre. Per loro c'era solo un medico che dall'ospedale di Acireale veniva a visitare a Giarre un solo giorno alla settimana. Dopo vari ragionamenti, scrive Patanè, si è pensato di ricevere i pazienti nello stesso ambulatorio ospedaliero, quindi in Otorino, martedì e giovedì mattina, mentre l'Otorino che viene da Acireale riceve il venerdì mattina. I pazienti sono seguiti così tre giorni la settimana ed in più quanti hanno bisogno dell'audiologia e vestibologia non hanno bisogno più di ritornare dopo una settimana per ritirare i referti. Patanè riferisce che verrà aperto anche un ambulatorio di otorino presso l'ospedale di Lingua Glossa. Ci siamo lamentati delle pulizie dei locali, continua il presidente del TDM, e ora sono più puliti. Abbiamo chiesto l'apertura pomeridiana, festiva e semifestiva del bagno nella sala d'aspetto del PTA e la pulizia più frequente e ora è sempre aperto. In ambito ospedaliero invece restano molte carenze. Sono state sistemate, scrive Patanè, le sale operatorie, per tutti quegli interventi non impegnativi di chirurgia per non intasare Acireale e sono stati aumentati i posti letto di medicina e geriatria per un totale di 14 posti letto, ma mancano gli infermieri e quei pochi rimasti sono anziani. Inoltre mancano gli ausiliari e quelli delle ditte non coprono tutta la giornata lavorativa. La psichiatria, che è un'eccellenza con 9 o 10 posti letto, sempre al completo non può ricevere trattamenti sanitari obbligatori perché manca il pronto soccorso e comunque è sottodimensionata. Nessuna notizia su lungodeggenza e fisiatria. Il Tribunale per i diritti del malato di Giarre auspica che il nuovo direttore medico e il nuovo governo regionale portino miglioramenti.